questo cos'è? la resistenza? sui cazzi? 16.000 si arrivo prima? si arrivo prima guarda, lo pagòi, guarda, lo pagòi buongiorno mate, ho una cosetta per te che andrebbe consegnata prima di subito che stai facendo? dopo il tè delle cinque ti andrebbe di mettere alla prova una mini countryman? oh capisco, sarebbe un accento britannico ti ringrazio molto, arrivederci wow, sembra di parlare con la regina in persona ma? a tutte le unità, attenzione, unità aggiuntive a disposizione ricevuto, quei piloti non sanno cosa li aspetta ma? io, matricola, hai sentito la sindaca alla radio? sai, anche ai bei vecchi tempi era sempre la stessa storia questa città ci ha sempre messo i bastoni tra le ruote certo, alcuni piloti di strada hanno anche altri traffici che creano problemi alla città ma per la maggior parte di noi questa è un'arte, ok? la città è la nostra tela e non è giusto dipingerci tutti allo stesso modo anche i piloti delle heights? sì, sì, ho colto l'ironia ma, ehi, ci stiamo costruendo un futuro, no? non abbiamo bisogno che la sindaca Stevenson lo faccia per noi oh, certo ricordalo sempre e andrà tutto bene là fuori perchè lo? che credo amico? che credo amico? che credo? chebbio amico piaciingh madonna del volo Cos'è? Ah, mia bella! Tiporelli! Bellissima sta macchina! Cos'è gli scappi nella valvola? Cos'è? Consegna l'auto in un minuto e quindici, perchè hai i soldi interi. E quanti cazzo ce ne so? Fuori strada, infatti. Fuori strada bisogna andare. Beh, mica sta macchina qua è veloce e fuori strada comunque. Oh, troia. Caccio oia, caccio oia. Eh, deve far anche bene. E tu te senti? Noi ti te senti già. Vedi che fa? Ma? No. No, macchina del storico. No, vi andai dritto, dritto. Accidua. E non ce la faccio a fare quindici. Oh, ma cazzo, non è vero. Faccio meno, uno e trenta, dieci mila. Va il sesso. Vabbè, vabbè, vabbè. Il cliente è all'auto. Si, ha chiamato. Hai fatto colpo? Non hai altro da dirmi? Niente disastri con i social, richieste di sp... Aspetta, vado a fare questa che è già vicina. Questa è la più. Non ho una macchina più. Non ho una macchina più. Qua. Non sono così prevedibile. Quindi, non vuoi che mi fermi da Alfredo sa prenderti una pizza? Hawaiana. Ma senza... Ananas. Non cambiare mai, Raidel. Ehi, ehi, ho un altro lavoro per te. La regge Rover Sport. Fantastico. Ho sempre sognato di sfrecciare sui canali di scuro. Mandami i dettagli. Ti va un po' di azione fuoristrada? Guarda quest'idiota. Bellissimo. Un po' di azione fuoristrada. E poi mi fa guarda quest'idiota. Bellissimo. Un po'. Ah niente, proprio faccio andare a girare. Aspetta. Wuhuuu. Bam. Zompato. Pompaduto. 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 Ehm. Pongaduto. Pompaduto. però spicarsi se è veloce ma che scorre già sta macchina quanta pezzi di macchina fuori strada poi questa fuori strada la città poi dipende come cazzo lo usi uhuuu guardalo guardalo e poi quanti zombie sta a fare e va bene ma sono stati brutti ma posso controllare la macchina in volo ma che cazzata è un minuto e venti dove c'è anche più meno tempo se no se no non va bene mamma non è proprio ma si va sta a volare solo con la macchina con questa macchina sto soltanto volando la macchina la macchina la macchina una risorsa aziendale ce l'ha fatta di nuovo la mia unica risorsa aziendale fai mangiare la polvere a tutti già ho provato a entrare alla burger academy ma non ho superato la prova scritta ecco ora mi hai fatto venire voglia di un doppio cheeseburger a dopo si è stufato capito si è stufato lui capito 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 si ca è un po' pesante, se vuole un po' scacqua che deve sprofondire e' vinto, facciamo questa ma che è? ehi, tieni il passo! eh, sto cercando di attirare la mia attenzione eh sto cercando di attirare, c'hè ripassato ah no, il poliziotto di gia, porco giù c'ho il poliziotto di un picoglione lì mi fanno adesso sinistro questi e' andato a sbattere contro un palazzo un palazzo chi levi dal cazzo mamma aiuto non lo spazzo nella macchina oh che ho fatto un po' fuori strada no qua non frena mai quello davanti quello davanti non frena mai non so che si andava a sbattere non so che si andava a sbattere questo sta cazzo guarda che quello non mi spunta davanti ah ti si commetti madonna che c**o non ho preso il tono io lo sapevo che passava davanti il poliziotto sta cazzala vuoi la sta cazzala sta cazzala non sono preoccupata almeno non ancora che si ma ci vuol dire che c'è dentro preoccupazione sono velocissimi questi infatti c'è ancora una macchina modificata c'è una macchina in sede è una macchina in sede e una macchina non di sede è comunque veloce sta male io continuo a colpire le altre auto non le macchine continuano a colpire a me non le macchina continuano a colpire a me non le macchine continuano a colpire a me aspetta tipo la forza o? io non penso che la farò mai dare in casa ma troppo ve lo usare normalmente senti 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 non farti schiacciare dalla pressione 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 ma poi ci sta dietro senti 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 si seguendo la polizia ah no strano cos'hai matato? ah 26 su 30 cosa nostra e cosa vostra che è sta copa? B ed S più cioè ed S normale posso provare a fare la B cioè la B cioè quella che però non dovrebbe essere la B con la macchina V mmmm che fanno? quanti di fuggi voglio sbloccare tutti ora è una cosa buona cosa nostra e cosa nostra chi ti sono? non c'è uno e quindici sti cazzi e sti cazzi ma chi è quella? non te lo dice non te lo dice non te lo dice ok beh ci si vede non vorrei essere Zzzzzzzzzzz zzzzzzz dove si fa la macchina mi ero distratto guardano che riuscita a queste macchine quando curano che cazzo sta facendo questa? ma è stupido dobbiamo correre come ho fatto piano ma è una polizia addosso ma è una polizia addosso infatti dopo ultimo se sbaglio qualcosa la polizia mi piglia pure io vado così lento che non dovevo manco frenare altra macchina ora si comincia a fare sul serio non cazza ragazzi ah ci sua ho scoperto tutto il mondo ho scoperto la squadra è genio eh ma la polizia dietro se non mollo la polizia mi piglia infatti comunque mi ammazza comunque ora mi piglia la polizia è dentro ma mamma 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 non so cosa stia dentro ma no lì 18, ancora sto B18. Devo fallersi no? Eh eh eh. Ma io bianchi senti senti. Quanto c'ha di polizia? Un po' 3. La tinta privata vale comunque 80.000. Yuhuu. 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 Oh muoio. Eh io lo sapevo andare a sbatterli. C'è proprio. C'è un suo modo per arrivare. No? Oltre alla polizia che sta venendo a testa. No? 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 No?